Il coordinamento rifiuti zero di Caltanissetta torna a richiamare l'attenzione dei sindaci e in particolare del sindaco Michele Campisi sull'importanza del potenziamento della raccolta differenziata e sulla costituzione di un osservatorio cittadino sui rifiuti. Il primo cittadino, infatti, secondo quanto dichiarato dai rappresentanti del coordinamento, si era assunto l'impegno di occuparsi personalmente dell'istituzione dell'osservatorio cittadino previsto tra uno dei punti della delibera popolare sulla gestione dei rifiuti votata dal Consiglio Comunale. Un osservatorio per offrire la possibilità a molte realtà cittadine accreditate di partecipare attivamente alla progettazione, alle decisioni e all'organizzazione del nuovo servizio di gestione dei rifiuti. Intanto premessa, veniamo da una raccolta firme che ha avuto un grande successo in Italia. Siamo riusciti a raccogliere 80.000 firme in pochissimo tempo per una legge di iniziativa popolare a livello nazionale che parla proprio di gestione dei rifiuti. Caltrinsett ha partecipato con successo con le sue 1.400 firme circa, anche di più che non siamo riusciti comunque a mandare in tempo. E ora è chiaro che l'Italia, gli italiani, i siciliani e i nisseni sanno cosa vogliono per la gestione dei rifiuti. Ritorniamo al discorso sulle parole date, le parole che sono state date in passato soprattutto dal sindaco Campisi quando a giugno promise che entro il luglio, nel mese di luglio, sarebbe partita la raccolta differenziata che avrebbe coinvolto la città in modo diretto. In quell'occasione si prese anche un impegno che proveniva dalla delibera di iniziativa popolare che avevamo fatto votare in Consiglio Comunale. Avevamo raccolto anche delle firme per questa delibera. Uno dei punti di questa delibera chiedeva la costituzione di un coordinamento cittadino, di un osservatorio era chiamato osservatorio rifiuti, sui rifiuti, proprio per dare l'opportunità ai cittadini di partecipare al processo decisionale che porterà sicuramente a breve tempo a una nuova gestione dei rifiuti. Quello che noi chiediamo ora al sindaco è di rispettare la parola che diede a giugno nell'ambito di un'assemblea cittadina e di coinvolgere i cittadini in prima persona per fare le cose innanzitutto alla luce del sole.